ora sarà la volta del campione d'Europa in carica Roger Bost per la Francia monta Quartz de la Land bene sul numero uno mano sinistra sull'Oxer bene sul muro ora Oxer combinazione di verticali Oxer numero 6 cancello, quattro galoppi, Oxer bene sul verticale bianco e verde Gabbia Longin, due tempi combinazione bene sull'altro Oxer chiude sulla tavola zero, qualifica anche lui del barrage e questo è un brutto cliente in barrage grazie a tutti grazie a tutti grazie